Carissimi investitori, come potete vedere, questo è un video un po' diverso dal solito. È un video che parla di una delle mie più grandi passioni e sicuramente è una cosa che interessa anche a voi. È un video che parla... Dei migliori 5 luoghi dove fare trading! Los mejores lugares para tradar! Iniziamo questa classifica con la metropolitana di Roma. In qualche modo sapere che sto facendo trading mentre sono sulla metro mi fa sentire meno povero e come se stessi perdendo meno il mio tempo. Il lato positivo è che spesso puoi trovare un sacco di gente interessante con cui parlare. Mi scusi, lei lo conosce il trading volumetrico? No. Grazie. I lati negativi del fare trading nella metropolitana di Roma è che spesso la connessione salta in galleria e ogni 90 minuti saremo costretti a pagare un biglietto. Ma questo ci spronerà a operare meglio sui mercati. E al quarto posto della mia personalissima classifica dei luoghi dove mi piace pari trading abbiamo la piscina di un grande albergo di lusso. Tra le cose top del fare trading in piscina ci sta sicuramente quello di poter far credere agli altri clienti dell'albergo che basta spingere qualche tasto sul telefono per vivere una vita in vacanza. Come potete vedere abbiamo trovato un altro trader che apprezza a fare trading in piscina. Dici com'è la tua esperienza? Soddisfacente. Mi piace proprio vedere il mio conto che sale quando altri personaggi mi pagano per comprare il mio corso. Ed è così che effettivamente faccio trading e guadagno nei mercati. Questo bagno fresco e rigenerante ne è proprio servito. Ora grazie a lui so come fare trading davvero. Già seguitelo per altri consigli. Entriamo ora nella zona calda di questa top 5. E ora entriamo nella zona caliente. Quello che andremo a vedere adesso è il luogo che più di tutti potremmo definire personale o intimo per fare trading. Ma è un luogo che comunque voglio condividere con voi. La tazza del cesso è il luogo perfetto per fare trading. Qui possiamo liberare la mente e il retto anale e operare al meglio sui mercati. Sentite questo odore di bull market. Continuiamo con un luogo che ha pregi e difetti. Ma che sicuramente fa parte di me da sempre. E no, non è il parcheggio. Al secondo posto di questa top 5 abbiamo la spiaggia. Venite con me. Venite. E non è l'estazionamento, è la playa. Possiamo dire che il mare è da sempre il mio elemento naturale. Tra i vantaggi del fare trading in spiaggia ci sono il fatto che possiamo prendere il sole e quindi abbronzarci. Ci possiamo rilassare e, all'occorrenza, fare un bel bagno rigenerante. I vantaggi del fare trading in spiaggia li abbiamo elencati. Ora, parlando invece delle cose negative, possiamo dire sicuramente che il sole rende un po' difficoltoso guardare il grafico nello schermo e c'è questo vento che può diventare molto fastidioso e ci può deconcentrare. Carissimi investitori, come sapete i mercati non si fermano mai. Per questo motivo il luogo che più di tutti apprezzo per fare trading è mentre sono a pranzo fuori. Magari gustando del buon food. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e nei commenti ditemi qual è il vostro luogo preferito per fare trading. Noi ci vediamo a un prossimo video. Noi ci vediamo a un prossimo video.